La prima fila che sarà epica mi approfittola per se il farsi e allora sono Henry Maffioretti Futur Team e Tommy D'Agoro da World Crew. Allora, Tommy ha portato i suoi capelli dal Giappone, ma in realtà si allena, si esibisce anche lui in giro con Damouf, Damouf da una parte, Futur dall'altra come nell'altra sfida, signore e signori, la sfida inizia tra 5, 4, 3, 2, 1, Yuriko! E' un'altra sfida! E' un'altra sfida! 3, 2, 1, cambio! 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 3, 2, cambio! 3, 2, 1, cambio! 3, 2, cambio! 3, 2, cambio! 3, 2, 1, cambio! 3, 2, 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 cambio!